ciao ragazze benvenute ben ritrovate nel mio canale oggi parleremo di una nuova azienda duca nails questa azienda da poco sul mercato con questo nuovo brand duca nails appunto vi propone un vasto assortimento di semi permanenti e anche da poco questa linea di gel extreme l'azienda abbiamo mangiato di questi prodotti che sono dei colori semi permanenti e questo builder extreme clear e oggi vi andremo a vedere insieme allora ragazzi andremo a vedere rapidamente i colori così poi andiamo a stenderli insieme a vedere i loro colori e la loro effettiva coprenza nella stesura allora abbiamo il numero 41 che è questo rame glitter veramente bellissimo il numero 45 che è una sorta di oro rosa sempre glitter poi abbiamo il numero 60 è un rosa metallizzato molto molto bello e infine il 119 stupendo colore è un vinaccio e naturalmente il top coat no wipe ultra extra gloss quindi andiamo a stenderli insieme e a vedere come si comportano e Grazie a tutti Allora ragazze, eccoli qua i nostri colori stesi, ho fatto due passate, ma devo dire che si stendono veramente bene, non lasciano striature, sono abbastanza coprenti. I semi permanenti li trovate nella pratica boccettina da 7ml e naturalmente Dura Nails, i loro prodotti sono made in Italy. Adesso andiamo a sigillarli con il Top Coat No Wipe Extra Gloss e vediamo com'è questo top. Allora ragazze, è un top molto denso, si stende benissimo e come avete letto è senza dispersione, quindi vi basterà semplicemente sigillare e polimerizzare in lampada per 60 secondi. Forse dal video i colori un poco sfalsano, comunque vi posso assicurare che sono veramente stupendi, specialmente i due glitterati, questo oro rosa che è veramente qualcosa di magnifico. Se andate nel sito di Duka Nails vedrete che c'è una vasta scelta di colori e troverete infatti dai classici colori ai colori glitterati e ai colori come questi, insomma, più particolari. Ok, andiamo in lampada e polimerizziamo. Ecco qua ragazzi i nostri colori sigillati con il Top Coat No Wipe Extra Gloss e come vedete è molto 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 lucente. Adesso ragazze voglio farvi vedere anche il Builder Extreme Player, questo è il barattolo da 30 grammi ma potrete anche trovarlo nella versione se non mi sbaglio da 50 grammi. come vedete ragazze è molto molto denso come gel, non si muove, va bene per allungamenti e naturalmente andremo a provarlo insieme, faremo qualcosa su un'unghietta, magari qualcosa sotto vetro in modo da vedere anche la qualità della trasparenza di questo gel. Allora ragazze eccoci qua, quindi questo Builder Extreme è un monofasico, quindi dopo aver preparato l'unghietta e applicato i preparatori andrò a stendere il nostro Builder a smalto, quindi come una base e creare lo strato di scivolamento e poi andrà a crearmi la mia bombatura, la mia struttura vi ricordo che è un Builder ad altissima densità e non cola assolutamente, ideale per allungamenti, copertura, è un monofasico quindi potete utilizzarlo tranquillamente però la cosa sorprendente di questo Builder ragazze è veramente e allora ha un'altissima densità ma è autolivellante quindi vi basterà semplicemente sfiorarlo con la punta, solo con la punta del pennello quindi accompagnandolo verso le cuticole e poi verso i laterali e lui si sistemerà automaticamente sulla vostra unghia vedete? pochissimi passaggi e vi creerà da solo la struttura è un prodotto validissimo e cosa molto più importante ragazze che come sapete io guardo anche questo in lampada non brucia assolutamente neanche un minimo di calore quindi è un prodotto veramente top perché ha tutte le qualità che una ragazza con un'onicotecnica cerca e quindi dopo averlo polimerizzato 60 secondi l'ho sgrassato e adesso andremo a limare la struttura naturalmente sto utilizzando una lima 180 e vado a sistemarmi la mia struttura anche se comunque non c'è molto da limare perché essendo un prodotto autolivellante poi bisogna togliere veramente pochissimo prodotto quindi tempo che possiamo risparmiare il builder extreme lo trovate presso Dukanails vi lascio naturalmente il link giù e approfittatele perché veramente Dukanails in questi giorni sta facendo veramente tantissime offerte e promozioni quindi se volete provare questo prodotto è l'occasione giusta ragazze ecco qua passiamo il nostro buffer per levigare al meglio la struttura e andiamo a stenderci il nostro colore sto stendendo il 45 che è oro rosa veramente bellissimo non sto utilizzando un colore come base perché è assolutamente coprente si stende facilissimo non crea striature si autolivella polimerizziamo facciamo una seconda passata per rendere il colore più vistoso naturalmente e adesso sigilliamolo con il top coat no wipe extra gloss un top molto denso che vi consente anche di eliminare quegli eventuali solchetti che magari erano rimasti ed è lucidissimo ragazze vi basterà solo polimerizzare e la vostra unghietta è pronta mi raccomando ragazze vi aspetto al prossimo tutorial un bacio ciao ciao